Un uomo di 38 anni, Tommaso Dalla Fina, originario di Schia in provincia di Vicenza è morto a causa delle gravi ferite riportate a seguito del violento scontro tra la sua auto e un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato lungo l'autostrada 4 nel tratto tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. L'auto stava procedendo verso Trieste quando l'improvviso, per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada, è finita contro un mezzo pesante fermo regolarmente nella piazzola di Sosta. L'impatto è stato devastante con l'auto ridotta a un groviglio di lamiere. I vigili del fuoco lo hanno stato dall'abitacolo con l'ausilio dei divaricatori, già privo di vita. Inutile l'arrivo del personale infermieristico. Autostrada e Alto Adriatico a sapere che al momento dell'incidente il traffico verso est scorreva regolarmente.